Partita molto importante, quella che vincina oggi a Catania, dove i rossatelli di casa ospitano il Varo. Sormani deve infatti cercare una risposta dei suoi per salvare anche la propria panchina. Al contrario i pugliesi stanno donendo un ottimo elemento sull'acquidenza dell'Unione. E la condizione del posto Serie A è più che mai tutta. Indubbiamente la rosa dei galletti pugliesi è di qualità, e la Serie A è l'obiettivo che viene chiesto a questi giocatori e a Saldemo stesso. L'abbio del match è però scioccante per il Varo, perché dopo appena 40 secondi gira lo sete e batte Bianca con bellissimo sinistro all'angolino. La furia degli Etnei si scatena ancora al sedicesimo, quando Pelosi fredda per la seconda volta Bianca. Bari 0 e Catania 2, con i pugliesi che non sembrano neppure entrati in campo. Dopo anche l'operatore tv stava dormendo come la difesa del Varo e non abbiamo l'immagine video del gol. Al trentanovesimo si vede finalmente il Varo che accorcia le distanze grazie a Terracene che sfrutta la perfezione, il pallone d'oro passato di De Joao Paulo, palla sul palo e poi in rete. Ancora Joao Paulo da animare l'attacco dei Varesi, questa volta però Paradisi non si fa sorprendere e rispinge la conclusione del brasiliano. Allo scadere della prima frazione il Varesi ora il gol del 2 a 2 ancora con Joao Paulo. Questa volta la sua conclusione, deboli ma precisa, sbatte contro il palo alla sinistra del potere del Catania e Paradisi. Si resta attivo con il Catania avanti 2 a 1 all'intervallo. Il duello tra Joao Paulo e Paradisi riprende da dove era finito. Questa volta Joao Paulo centra alla porta, Paradisi contro un vero miracolo devianti il calcio d'acqua. Il sessantaseiesimo patta potrebbe chiudere il discorso, ma tutto solo davanti a Biato non riesce a batterlo. Palla ampiamente a lato. Poco dopo tocca a Cipriani fallire la rete del 3 a 1. Tiro centrale che Biato riesce a parare. Ad un quarto d'ora dalla fine ci prova Raducioglio. Oggi è abbastanza in unico, così come la sua conclusione che si perde ampiamente sul Puglia. I pugliesi insistono alla ricerca del 2 a 2, ma si espongono evidentemente al contropiere Catanese. All'ottantesimo Biato tiene a galla il bar, parando sul patto. Nulla può però il numero uno in un bianco rosso sul tiro al novantaduesimo di Cipriani, che chiude la partita e regala un vittorio meritato al Catanese. Un successo che dà ossigeno alla classifica degli etnei e che arriva a termine di una brillante prestazione della squadra di Sormani, che salva così la propria panchina. Si ferma oggi la corsa dei pugliesi verso la promozione, una sconfitta che però potrebbe essere salutare, perché dimenziona un po' la squadra di Salvini, oggi apparsa, sbogliata e inconcludente. Solo Joe Paolo si è salvato oggi tra le fide del bar, troppo poco per reggere questo Catania. e quindi a sempre la fide del bar, troppo poco per reggere questo Catania. Grazie.